Risolta parzialmente la situazione emergenziale venutasi a creare presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Luigi Curto di Polla per il quale era stata disposta la chiusura a seguito alla mancanza di medici sufficienti per poter garantire il servizio. Le richieste di intervento del responsabile del reparto dottor Antonio Caronna sono state accolte e soddisfatte grazie all'intervento del consigliere regionale Corrado Matera che come sottolineato dallo stesso dottor Caronna ancora una volta è venuto incontro alle esigenze dell'unità operativa riuscendo ad individuare soluzioni idonee a garantire almeno una parziale riattivazione dei posti letto per i ricoveri e gli interventi che già questa mattina sono stati eseguiti. È stata infatti garantita la presenza di un medico ortopedico che arriverà in supporto all'unico medico in servizio a Polla in questi giorni di marzo direttamente dall'ospedale di Oliveto Citra. Risolto quindi seppur in maniera temporanea l'emergenza personale per il reparto di ortopedia e traumatologia che altrimenti sarebbe stato chiuso fino al 28 marzo prossimo periodo in cui il dottor Caronna deve osservare come da legge riposo biologico. Secondo quanto spiegato dal responsabile del reparto pare che l'emergenza non è comunque recente ma parte da molto lontano. Già cinque anni fa nel reparto si registrava una carenza di personale sanitario a cui all'epoca aveva posto rimedio Matera nella sua veste di assessore regionale bandendo un avviso pubblico che aveva consentito l'arrivo di due ortopedici seppur per un periodo di tempo determinato dato che gli avvisi pubblici garantiscono solo assunzioni temporali. Dopo pochi anni l'emergenza si ripresenta e due anni fa il reparto deve fare ancora una volta i conti con la carenza di personale tanto che il dottor Caronna seppur da solo garantisce comunque il mantenimento del reparto con turni massacranti e senza ricambio per un lungo periodo che va da giugno a settembre. Anche in quel caso l'allora assessore Corrado Matera viene in aiuto del reparto con la sottoscrizione di una convenzione con i ruggi d'Aragona per consentire la presenza presso Luigi Curto di un ortopedico in servizio permanente a Ruggi. La convenzione però lo scorso anno per decisione dell'asilo di Salerno non è stata rinnovata portando così all'emergenza di queste ultime settimane. Grazie quindi all'intervento del consigliere Matera il reparto è stato riaperto anche se per un numero limitato di posti letto ma potendo comunque garantire ricoveri in caso di emergenza e anche gli interventi chirurgici laddove necessario escludendo l'ipotesi trasferimento presso altri presidi ospedalieri. Grazie. Grazie.